Ciao a tutti, vediamo adesso come funziona Sutori che è un'app web in grado di costruire timeline ovvero raccontare storie. Vediamo come funziona allora andiamo su sutori.com quindi digitiamo sulla barra degli indirizzi www.sutori.com e la prima cosa da fare è registrarsi quindi clicchiamo su Synapse, qui posso registrarmi o con l'account di Google o di Office o di Facebook oppure cliccare su questo pulsante e inserire nome, il cognome, l'indirizzo email, una password confermare la password, questo segno è già spuntato perché si presume che abbiate più di 13 anni, accettare le condizioni d'uso e fare clic su continua. Subito dopo nella schermata successiva comparirà un paio di pulsanti dove dovete decidere cliccare se siete insegnanti o studenti oppure altro io mi sono già loggato quindi entro col mio account e faccio login allora l'interfaccia si presenta in questo modo adesso andiamo a vedere in che modo costruire una timeline supponiamo di voler costruire una timeline del viaggio di Ulisse allora basta cliccare su crea la tua prima storia e la prima cosa da fare è cliccare sul titolo qui scriviamo il titolo mettiamo il viaggio di Ulisse possiamo indicare una breve introduzione io ho scritto una frase l'odissia del poema scritto da Omero racconta le avventure, i viaggi e le pericrazioni dell'eroe greco Ulisse qui posso come vedete compaio una serie di pulsanti che posso formattare quindi sottolineare in corsivo, in grassetto e creare anche degli elenchi puntati posso poi uscire e proseguire a raccontare la mia storia qui se io passo con il mouse qua sopra vedete che esce un pulsante più con questo pulsante io posso inserire vari elementi che comporranno infine la mia storia se ci clicco posso vedere una specie di menu dove posso inserire un testo, un'immagine, un video dei file audio, un forum dei collegamenti, dei link fare delle domande a scelta multipla e altre cose che poi vedremo dopo adesso vediamo una per una tutta questa come funziona e alla fine vediamo in che modo si presenta il prodotto finale quindi comincio a inserire per esempio la testata magari posso scrivere tutto comincia nella città di Troia ora decido di inserire dei riferimenti su questa città prima di passare nella tappa successiva dico qualcosa sulla città di Troia intanto dove sta allora vado a cercare una cartina della città di Troia qui ho già trovato qualcosa eccola qua magari l'ideale sarebbe stato anche di vedere dove si trova diciamo un qualche altro riferimento dove si trovano altre isole in ogni caso supponiamo che mi vada bene questa foto la apro quella foto fa parte di questa pagina che reputo magari interessante ai fini di un approfondimento sulla città di Troia memorizzo l'immagine quindi il file salva con nome la memorizzo sul desktop quindi ci scrivo Troia cartina lo salvo ritorno sul mio sutori clicco in un punto qualsiasi e inserisco l'immagine clicco su questa nuvoletta vado a cercare cartina la mia cartina questa qua come vedete lui fa l'upload e lo inserisce qui magari posso aggiungere altre voci in riferimento a questa cartina e così via ci posso mettere un testo allora vediamo come si fa io prendo magari un testo che ho già scritto precedentemente e faccio copia e incolla questo testo decido di inserirlo prima della cartina quindi mi posiziono con il più sopra questo punto ci clicco clicco su testo e faccio ctrl v perché l'avevo memorizzato precedentemente quindi il viaggio inizio in questa città nella quale si trova nell'alatoria eccetera eccetera clicco fuori in modo da memorizzarlo come vedete la cartina che prima era a sinistra ora si è spostata a destra quindi lo spazio viene ottimizzato in automatico il sito che avevo visto prima cercando la cartina questo qua lo reputo interessante ai fini di un approfondimento quindi lo voglio inserire nel mio percorso quindi clicco sul link del sito faccio ctrl c ritorno nel mio sutori e decido di inserire questo sito per esempio questo link in questo punto uso a questo punto questo pulsante e qui incollo il link con ctrl v clicco su embed come vedete lui me lo rimuove in qualsiasi momento io posso eliminare basta cliccare vedete c'è il cestino eliminare un qualsiasi elemento che inserisco sia essa un'immagine sia un testo sia lo stesso link supponiamo di voler inserire per esempio un video di pochi minuti che parla della città di troia per dare ancora maggiori informazioni lo posso andare a cercare su youtube quindi facendo una ricerca youtube città di troia ce ne stanno tanti di siti di link a dei video più o meno lunghi quindi io per dire ne prendo uno adesso supponiamo che questo vada bene memorizzo il link di questo video come si fa tasto destro quindi vedo se è di mio gradimento faccio copia url video posso quindi posso memorizzare l'url del video e inserirlo all'interno del mio della mia storia la procedura è sempre la stessa dove lo metto questo video diciamo che la sua posizione ottimale sarebbe diciamo dopo la cartina per esempio ecco lo metto qua quindi parla della scoperta probabilmente della città di troia decido di inserirlo in questo punto clicco video mi chiede ovviamente di fare l'upload del video oppure di incollare il link in questo caso faccio ctrl v e vedete lo posiziono esattamente in mezzo a queste due puntini azzurri quindi questi due puntini azzurri sono indicati vedete da questa sporgenza laterale di questo riquadro bianco che mi indica appunto il riferimento diciamo del puntino al riquadro quindi la storia valletta diciamo in verticale quindi comincia qui poi c'è questo passo poi questo e così via allora decido che per quanto riguarda la città di Troia ho dato sufficienti informazioni passo alla seconda tappa del viaggio di la seconda tappa quindi è l'arrivo nella terra dei Ciconi quindi clicco qui alla fine diciamo sotto l'ultimo link della città di Troia inserisco un testo e ci scrivo per esempio arrivo nella terra dei Ciconi decido di magari fare in bold in grassetto questo riquadro per evidenziarlo maggiormente ecco qua sembra dovrebbe essere in grassetto dovrebbe essere già in grassetto però sembra uguale a questo vediamo se lo fa niente non lo fa allora dove si trova la terra dei Ciconi io l'ho cercata su internet ho visto diverse immagini diverse descrizioni come vedete anche qui i riferimenti non mancano decido di inserire questa immagine quindi la terra dei Ciconi si trova in traccia Ulisse ci arriva da Troia spinto da 20 eccetera quindi salvo con il solito modo questa immagine sul desktop faccio salva vado su mio su Tori e inserisco la cartina quindi un'immagine quindi clicco sempre nel solito modo e inserisco così nella mia storia questa immagine in questo modo posso inserire tanti altri elementi e proseguire diciamo sempre in questo modo con la possibilità di inserire all'interno in qualsiasi altro punto della mia timeline qualsiasi altro riferimento multimediale quindi possiamo magari alla fine della prima tappa quindi prima dell'arrivo della terra dei Cicloni inserire per esempio qualche immagine qualche test così per far rispondere agli alunni diciamo dare agli alunni delle domande alle quali devono rispondere come si fa per esempio ci metto questo scelta multipla quindi faccio l'edit posso inserire delle domande partendo da un'immagine oppure magari aggiungere qui delle domande una domanda e scrivere le varie risposte quindi magari dove si trova la città di Troia oppure magari fare una domanda all'interno che è presente la cui risposta sia presente all'interno del video oppure di questo sito oppure di un altro file che ho allegato alla alla mia timeline su Tori quindi si offre insomma per scrivere storie ma è possibile anche assegnare agli alunni un compito di costruire una loro storia su un argomento particolare come al solito ogni su Tori ha un suo link che io posso condividere e magari inviarlo in una classe virtuale ora senza fare tutto quanto insomma la storia di Ulisse del viaggio di Ulisse vediamo come si condivide questo link io clicco su share qui mi da un messaggio di errore dice che il quiz che ho inserito è incompleto quindi lui è in attesa ancora di inserire le domande e decido di eliminarlo quindi faccio clicco sul cestino e gli dico che sono sicuro di volerlo eliminare e alla fine decido di condividerlo clicco su share qua mi chiede di invitare altre persone per editare la storia intanto quindi se lo voglio prima condividere qui basta che clicco inserisco le mail dopo che ho fatto faccio fine qui posso chiaramente cancellarlo copiarlo stampare addirittura diciamo tutta la mia la mia storia per condividere il link basta che faccio come al solito copia e incolla del link sulla barra degli indizi si tratta di provare e provare a fare una propria storia su un argomento specifico un saluto a tutti di provare di provare